Ciao a tutti, come state? Spero bene. Allora, oggi non era proprio in programma di fare un video, però dai, ci piacciono queste cose un po' così improvvisate. Non mi preparo di solito per i video, non mi preparo granché, ma questa volta proprio non so cosa uscirà fuori, sarà divertente. Allora, considerando poi che sono sveglia dalle tre di questa mattina, così, tanto per, non so per quale motivo, ho una confusione in testa pazzesca, quindi sarà divertente. Ok, possiamo adesso cominciare, Valentina? Sì. Dunque, questo video, soprattutto, è per coloro che mi avevano chiesto di fargli sapere la mia opinione su questa raccolta di racconti. Quindi, ci tengo a farvi sapere la mia, in realtà ne avrei parlato ugualmente perché secondo me merita. Come potete vedere, la raccolta si intitola Da leggersi all'imbrunire di Charles Dickens. Sono racconti di fantasmi, sta scritto anche qui. La mia è un'edizione in Audi, l'ho presa online, non ho visto se ci sono altre edizioni. Di solito lo faccio, ma stavolta non l'ho fatto perché sono totalmente impreparata, quindi mea culpa. Però penso che, essendo un classico, si trovi in varie forme e misure, quindi dateci un'occhiata, secondo me qualcosa trovate. Questo, il prezzo di copertina è 12,50€, però online, ovviamente si paga tutto di meno, 2-3€ di meno sicuro. Notate che stavolta però mi sono fatta l'orecchietta per dirvi il numero di pagine immediatamente, 258 pagine della raccolta vera e propria. Poi qui c'è anche un appendice che io ho letto e quindi ovviamente sono più di 258 pagine, però le storie in sé per sé sono quelle. Dunque, mi è piaciuto? Sì, può sembrare strano perché, conoscendomi, io non sono tanto amante della raccolta di racconti. Cioè, devono essere raccolte particolari o argomenti che mi interessano per portarmi a leggere una cosa del genere. Di solito faccio fatica, preferisco leggere le storie, l'unica storia sviluppata all'interno di un romanzo. Le raccolte di racconti faccio un po' fatica, però nonostante questo, da leggersi all'imbrunire, mi è piaciuta. Ci sono storie ovviamente che mi sono piaciute più di altre, le ho trovate più carine, più interessanti, hanno attirato più la mia attenzione rispetto ad altre, però, in generale, il mio giudizio su questa raccolta è più che positivo. Ho notato che i giudizi in giro sono un po' contrastanti, però ve lo dico dopo. Allora, se vi capita questa di edizione, ma veramente non ha nessuna importanza l'edizione, non voglio fare pubblicità, nessuno non me ne frega niente, questo l'ho comprato con i miei soldi. Però, ci tengo a dirvi una cosa, che nell'introduzione spiega un po' come è nata questa raccolta. Innanzitutto, una cosa simpatica che mi ha fatto ridere è stata, sempre leggendo l'introduzione, è stato sapere che nel 1927 un certo Sir Arthur Conan Doyle organizzò una seduta spiritica per parlare con il defunto Dickens per farsi raccontare il finale del mistero di Edwin Drude. Il mistero di Edwin Drude è un romanzo che, tra l'altro, io ho nell'armadio, lo devo leggere, quindi io ho per un attimo tremato quando ho letto questa cosa, dico, io speriamo che non mi fanno uno spoiler gigantesco, e invece no, mi è andata bene. Però l'ho trovato simpatico, essendo un romanzo incompiuto, cioè, puoi organizzare una seduta spiritica per farti raccontare il finale, dai, sei un po' pazzerello, su, diciamo che è un comportamento curioso, non voglio offendere nessuno, però mi ha fatto ridere questa cosa. Comunque, a parte la nota di colore, che ho trovato carina, simpatica, praticamente ho capito che da leggersi all'imbrunire, in realtà, non era stata prevista, perché Dickens tutte le storie che scrisse durante la sua carriera di scrittore, in realtà non le scriveva con l'obiettivo, poi, un giorno di raccoglierle dentro una raccolta che avrebbe chiamato da leggersi all'imbrunire. È capitato, è venuta dopo questa idea, e ha raccolto tutte le storie di fantasmi, le storie gotiche, le storie che hanno a che fare con situazioni misteriose, oppure con storie grottesche o misteriose, che raccontate da terze persone, un po' come le nostre leggende metropolitane. Avete presente, no? L'amico dell'amico di mio amico mi disse che è uguale, uguale. Io penso che Dickens si sarebbe divertito tantissimo ad ascoltare le nostre leggende metropolitane, ci avrebbe ricavato tanti spunti, avrebbe scritto cose molto interessanti. Però, tant'è, da leggersi all'imbrunire, appunto perché si chiama da leggersi all'imbrunire, raccoglie tutti questi tipi di storie. Dickens era appassionato di mistero, ipnotismo, sedute spiritiche, fantasmi, tutte queste cose così, nonostante riuscisse comunque a mantenere un certo scetticismo, e si sente ogni tanto. Non so come sia possibile, provo a spiegarvelo, come se voi, scettici su queste cose, raccontaste una storia, però nel racconto fate sentire che ci credete. Cioè, siete sia scettici, ma ci credete sotto sotto. Non lo so, si amalgama bene questa cosa. C'è anche molta ironia, perché Dickens è anche molto ironico. Soprattutto una mi ha fatto troppo ridere il finale, perché... Vabbè, non vi dico niente. Allora, quindi, praticamente queste storie, prima di farvi vedere l'indice, vi stavo dicendo, io mi perdo, vago! Annaggia! Queste storie, o erano storie scritte così random, e incluse in altre opere, oppure erano storie che lui scriveva per pubblicarle poi nelle riviste che dirigeva. E tante storie gotiche, questo non lo sapevo, l'ho scoperto leggendo e informandomi, che tante di queste storie gotiche lui le scriveva proprio sotto Natale per pubblicarle poi nelle riviste, nel numero natalizio della rivista per cui scriveva in quel momento, o che dirigeva in quel momento, perché Dickens è anche diretto poi delle riviste. Tutte queste storie ha deciso di raccoglierle e facci una raccolta da leggersi all'imbrunire. Faccio vedere l'indice, da dove le ha prese, vedete? Allora, Fantasmi Natalizi è un'introduzione che proprio Dickens stesso fa, cioè racconta un po' di cose. Poi due racconti della Tata, cinque racconti del circolo di Piqui, che se mi avvicino, e quelle con i puntini sono quelle che mi sono più piaciute. Poi, storie random che sono state via via nel tempo pubblicate nelle riviste per le quali scriveva. E poi c'è l'appendice, che tra l'altro io ho trovato molto interessante. Forse anche un po' di più delle storie di Dickens in sé per sé, però ci sono dei motivi, perché poi ve lo dico. Allora, io volevo dire prima che sapete che mi diverto a leggere i commenti delle persone sui libri che hanno letto, che sono poi gli stessi che ho letto anche io. Devo dire che qui c'è una bella lotta. Ci sono sia commenti positivi, ma ahimè anche commenti negativi. E i commenti negativi... Io propendo più per il giudizio positivo. A me Dickens piace. Nonostante faccia fatica a leggere raccolte di storie e non un unico romanzo, quindi saltare via via di palo in frasca, cambiare personaggi, cambiare situazione, cambiare storia, questa cosa dopo un po' non è che mi piace tantissimo, però me li concedo ogni tanto questi tipi di letture. Aiuto! Quindi se ce l'ho fatta io, tranquilli, si può fare, anzi, ne vale proprio la pena. Nonostante questa mia difficoltà, io l'ho trovato veramente carino, veramente interessante. Mi è dispiaciuto leggere alcuni commenti negativi, soprattutto perché magari alcuni dicevano eh, ma racconti di fantasmi, ma non c'è niente di cui spaventarsi, né nei racconti di Dickens, né nei racconti elencati nell'appendice. Non sono propriamente d'accordo. Quello che penso io è questo, è che bisogna sempre mettere tutto, leggere tutto nella giusta prospettiva. Noi, terrestri del 2016, come posso dire, abitanti dell'Italia del 2016, non ci spaventiamo per le stesse cose. Non troviamo spaventose le stesse storie che nell'Ottocento invece terrorizzavano le persone. Nell'Ottocento la soglia della paura, dello spavento, era diversa da oggi. Oggi si è notevolmente alzata questa soglia. Oggi, purtroppo, c'è anche da dirlo, prima che ci scandalizziamo, prima che ci spaventiamo, prima che corriamo urlando aiuto, aiuto, ma ce ne vuole. Ce ne vuole. Quindi è ovvio che queste storie al lettore del 2016 non faranno minimamente paura. Bisogna leggere le cose in prospettiva. Bisogna tener conto che queste sono state scritte nell'Ottocento e all'epoca ci si spaventava per cose con poco, con veramente poco. Bastava una storia di fantasmi per sentito dire oggi noi ridiamo quando sentiamo le leggende metropolitane. Ridiamo. All'epoca si spaventavano, ma è normale perché era l'Ottocento. Che cavolo! Quindi, non sono molto d'accordo con questo. bisogna sempre vedere quando e perché sono state scritte le cose. Comunque, il mio giudizio è positivo. Se amate le raccolte di racconti, questo non può mancare nella vostra libreria. prendetelo, leggetelo perché è particolare. Poi di Kenza è una garanzia per me. Mi piace. Mi piace come scrive. Quindi, alzo le mani. nel caso in cui invece non siete proprio amanti delle storie così, delle raccolte così, dategli una possibilità. Magari anche leggendo le scaglionate potete tranquillamente intervallare una storia con un altro libro. Potete leggere due cose contemporaneamente e leggervi una storia ogni tanto. Nessuno ve lo vieta. Però, dategli una possibilità. io ho trovato interessante l'appendice perché nell'appendice che si chiama Padri Precursori e Teorici ci sono storie o comunque esperienze raccontate da personaggi particolari. Uno su tutti e io non lo conoscevo e sono stata contentissima di leggere qualcosa al riguardo è per esempio Anne Radcliffe non so se voi avete mai letto di Jane Austen Northanger Abbey è la protagonista di Northanger era una grandissima amante di Anne Radcliffe soprattutto del romanzo I misteri di Udolfo se non sbaglio si dovrebbe il titolo completo sul romanzo su Jane Austen a brevia con Udolfo però dovrebbe essere I misteri di Udolfo Anne Radcliffe è stata una dei precursori del romanzo gotico insieme per esempio a Walpole caschetto il castello di Otranto per esempio insieme a Bram Stoker insomma sono personaggi che si sono inventati hanno sperimentato con un genere nuovo e quindi sono stata contenta di leggere qualcosa di Anne Radcliffe ma a parte anche Walter Scott che ci sta sempre bene sempre e comunque quello che ho trovato veramente interessante sono stati racconti di Villa di Odati perché che è successo a questa Villa di Odati un pomeriggio di brutto tempo se non sbaglio che un gruppo di persone si sono sedute intorno ad un tavolino e per passare il tempo hanno deciso di inventarsi delle storie di paura due delle persone sedute intorno a quel tavolino erano Lord Byron e Mary Shelley proprio la parte la storia di Mary Shelley cioè non è in realtà una storia proprio la parte raccontata dello scritto di Mary Shelley ho trovato molto interessante perché ci racconta la genesi l'inizio la scintilla che ha fatto nascere il suo romanzo più famoso Frankenstein quindi io che avrei dato per essere una mosca e sentire quello che dicevano quel giorno l'ho trovato molto interessante ecco perché l'appendice mi è piaciuta quasi forse di più delle delle storie in sé per sé però vabbè la chiudo qui sto già bladerando troppo allora io spero che le persone che mi avevano chiesto di dirgli la mia che mi avevano chiesto feedback a riguardo siano soddisfatte mi è piaciuto quindi dai secondo me dovete leggerlo niente a me non mi resta che salutarvi augurarvi buon fine settimana buon proseguimento di settimana innanzitutto perché è mercoledì strano non faccio quasi mai video in mezzo una settimana io sono rare le volte e e ovviamente buon fine settimana speriamo di sentirci presto e spero di non avervi annoiato e che questo video abbia un qualche senso visto che ripeto ho una grande confusione in testa va bene ciao